Dopo un inizio quasi scoppiettante in Serie 2 per il Castellammare femminile di calcio a 5 sono arrivate le prime grosse delusioni. Dopo il 7-0 subito a Napoli due settimane fa è infatti arrivato un altro secco K.O., questa volta in Ancasa della Mezzia. Il team rosso-blu ha perduto per 5-2 al Palasparti contro una squadra che finora in cinque giornate ha perduto soltanto una volta. Gara cominciata con emozioni, Calabresi subito in vantaggio con Aliotta e pareggio immediato della Castellammare con una prudezza della palermitana Fecarotta. Il match si è incanalato attorno al quindicesimo minuto quando l'eroe alla Mezzia ha infilato due reti nel giro di un paio di minuti. Vantaggio che poi sale sullo 4-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa, dopo vari tentativi a vuoto, le siciliane riducono le distanze al dodicesimo con il loro capitano, l'esperta balestratese Marina Piccolo, con una precisa stoccata a rete su assist da calcio d'angolo. Tre minuti dopo però De Sarro ristabiliva le distanze fissando il finale sullo 5-2. Con questa sconfitta Castellammare scivola all'ottavo posto in classifica e rimane fermo a quota 6, due vittorie e altrettante sconfitte in quattro incontri. Domani la squadra del golfo di calcio a 5 femminile sarà nuovamente in campo per ricevere al palagrimaudo di Alcamo la Salernitana. La gara era stata rinviata per il maltempo su richiesta della società campana. E passiamo alla palla a mano. Con questo roster, la TH Alcamo rappresenta davvero la vera e propria Formula 1 della Serie B. Anche nella seconda giornata, infatti, il 7 di Benedetto Randes ha maramaldeggiato contro lo Scicli. Il match è durato una decina di minuti con un parziale di 9-0 per i padroni di casa. La gara si è conclusa con Alcamo avanti di una ventina di reti. In attacco hanno fatto la differenza l'ex azzurro a Vito Vaccaro, il palermitano Saitta, il sempi eterno e over 40 Angelo Scireno che il giovanissimo Dattolo. Un iconeo, come già accaduto con il Villauri a Palermo, le troppe occasioni sprecate a tu per tu con i portieri avversari, che sono stati i migliori in campo nella gara con lo Scicli. Sono importanti anche queste partite perché il campionato è lungo. È lungo e noi dobbiamo ingranare i meccanismi della squadra e trovare una giusta magma per arrivare a fine campionato nelle giuste condizioni per poterlo vincere come è il nostro obiettivo. Una squadra giovane, già tecnico Randes lo scorso anno, Dattolo, Cicirello, Orlando, lo stesso Pizzito. È una squadra che ha ampi margini di miglioramento, soprattutto con i giovani e con gli anziani della squadra. Sì, questo è importante. Il ricambio genezionale è fondamentale per noi. Abbiamo questi ragazzi che si allenano costantemente e la loro crescita è notevole a vista d'occhio. Siamo passati da un paio di anni fa che non giocavano, anche ora sono elementi importantissimi per la squadra e giocano titolari. Per gli anziani io uscirei e ovviamente siamo un po' il collante per aiutarli a crescere ulteriormente. Vito Vaccaro, chiariamo questa ultima parte della partita, questo scontro fortunatamente verbale tra Saitta e tu. Diciamo, probabilmente ti sei nervosito quando non hai tirato quel tiro dai 7 metri e Randes lo ha concesso a Dattolo. E poi cosa è successo? No, no, no. Io e Dattolo siamo i rigoristi, io diciamo sono il principale e una volta che magari c'è un errore una cosa e tira l'altro. Siccome ancora non ho fatto errore a parte il palo, che il palo non viene considerato come errore, siamo preparati dai portieri, non sapevo. E poi ho detto vabbè, ho fatto tirare a lui, alla fine è il secondo rigorista. No, con Saitta c'è stata una concompreensione che io gli ho detto una cosa, lui ha capito male, mi ha risposto in un'altra maniera. Sì, già è uno spogliatoio, siamo appena entrati, tutto a posto. Sì, già è quello che non è importante. Sì, già è uno spogliatoio, è unaınınica, è una maniera. Torniamo un'altra maniera che non è un'altra maniera. Sì, che è una maniera che non ha risposto, l'altra maniera una maniera che non ci sceglie, è una maniera che non ha risposto.